Sicuramente ci vogliono delle attività culturali, ma indubbiamente è necessario, anche se l'assessore è stato molto chiaro su questo, che ci sia un intervento dei servizi sociali, perché là le criticità sono di persone che hanno delle difficoltà, hanno delle difficoltà personali, facendo gruppo ovviamente sono più violenti, se interveniamo in maniera sociale possiamo anche, come dire, disgregare i gruppi. Il sindaco ha risposto che non ci sono solo giovani, ma ci sono anche persone adulte. Benvenga, se possiamo inserire delle persone adulte anche in un sistema, in un percorso lavorativo, benvenga. Ma la repressione, secondo noi, è sbagliata. Il problema della sicurezza è un problema nazionale, da resto lo sanno tutti, questi 10-11 anni di governi di centro-sinistra hanno fatto di tutto e di più per motivare l'insicurezza che c'è oggi. C'è l'Italia, penso che sia diventato il paese simbolo dell'incertezza della pena. Quindi hanno introdotto a buoni sconti benefici nel codice penale, che oggi è diventato poco più di un colabrodo. Addirittura il reato di tortura, che in realtà sappiamo che serve soltanto per limitare l'intervento delle forze dell'ordine, hanno tagliato gli organici delle forze dell'ordine. I comuni cosa possono fare? Possono gestire. C'è da dire che a breve scadenza partiranno i lavori per la ristrutturazione della Camera del Commercio e quindi sicuramente migliorerà tutto il settore, perché sia da Via Zorzetto, di fronte al Pamma, ma anche i giardini di Sant'Andrea, che purtroppo non riusciamo a sfruttare al meglio, perché è veramente un'osi verde e sarebbe bene che potessero tutti usufruire senza avere, come dire, paura magari di qualche incontro indesiderato.